Il nostro compito noi tre a questo tavolo è finito e chiudiamo tutti e tre con l'augurio rinnovato ad ICT affinché diventi una associazione internazionale molto più rappresentativa, molto più forte. Sicuramente l'Italia, come ho detto in apertura di mattinata, è a disposizione e si impegnerà affinché ICT diventi realmente la rappresentanza maggiore della conceria mondiale. Quindi auguriamo buon lavoro a chi trasformerà questo convegno in un riunione molto tecnica e molto professionale. Grazie e buon lavoro.